Due dei principi fondamentali del rugby sono il sostegno e l'avanzamento. Non si può andare avanti senza l'aiuto dei propri compagni. La squadra del rugby della Plada, città dove sono nato, lo ha dimostrato sfidando uniti il regime militare argentino. La loro appassionante e convolgente storia rivive oggi in teatro. Andate a vederli, vi aspettano per parlare di rugby, diritti umani, di sport e di vita. Grazie a tutti.